Vediamo cosa c'è dentro Ciao a tutti Benvenuti a Lanzarote Giorno 1, primo giorno di Lanzarote E visto il bellissimo tempo che abbiamo Abbiamo deciso di non andare a mare Grazie Al Per chi non lo sapesse noi abbiamo appena finito Il tour di Forteventura Quindi se ve lo siete persi vi lasciamo il link in descrizione E adesso stiamo inaugurando Il primo giorno qui a Lanzarote Cosa facciamo oggi? A giudicare dalla mia spalla e andremo a vedere dei cactus Stiamo andando al giardino di cactus I biglietti costano 6,50 a persona Andiamo a esplorare questi cactus Allora siamo appena entrati Però onestamente già secondo me Ne vale la pena Molto bello Mi ne voglio di abbracciarlo vero? Proprio no Vuoi farlo tu? No grazie guarda quanto sono alti Questo è proprio grosso Proprio grosso grosso Eccolo L'albero a cactus Là dietro presto Guardatelo Sembra un albero In realtà sono cactus Guarda che grosso questo Ho trovato un errore Ho trovato un errore Perché c'è una pianta di aloe vera E in realtà Nell'aloe edificio ci hanno spiegato Che l'aloe vera Non è parte dei cactus È parte È famiglia delle cipolle Poi percorrendo questo bel corridoietto Si arriva al mulino Ad un cactus Vediamo se punge Secondo me punge più degli altri Questo morde addirittura Adesso guardiamo un po' i piani alti I due sembrano palesemente alberi In realtà sono cactus Come tutto del resto Non ci credo che anche questo è un cactus Non ha senso Anche le insegne del bagno sono molto carine Ehi tu Che ci fai qui? Sei un'intrusa Tu non sei un cactus Guarda Questo cactus sembra fatto di ferro Non mi pronuncerò sulla forma bingo Tipo quello che abbiamo appena visto Non lo farà Ora di qua si va al mulino Non mi quadrare le chiappe Ok La vista è molto carina Cosa fa la mulinata? Eh per favore signora Quattro grandi macine Tappa numero due della giornata Stiamo andando a guardare delle grotte Che si chiamano Paeso de agua Paeso de agua Camoese de agua Comunque il paesaggio è completamente diverso da ora Ah dovevo girare a destra Dovevo girare a destra Eccoci arrivati Siamo al Giammeos O Giammeos De agua Ed è costato 10 euro a testa E dovrebbe essere un complesso di grotte e tunnel vulcanici sotterranei Siamo al primo giorno di Lanzarote Seconda attività che facciamo Quanto abbiamo speso fino adesso 32 euro Sì A Forteventura in un mese non abbiamo pagato un euro Per andare da nessuna parte E si scende Questi granchetti che ci sono nell'acqua Sono la particolarità di questa pozza vulcanica Infatti è abitata da questi piccoli minuscoli granchetti Grandi un centimetro Totalmente bianchi e ciechi Non so perché ma ciechi E se ne vedono un sacco Tutti questi puntini bianchi sott'acqua Sono i granchetti Ale Così si scende in acqua Guarda Scusa di fermi L'acqua è super trasparente Possiamo vedere tutti i granchetti Granchetti La sera da volte Dici granchetti L'acqua è super trasparente Possiamo vedere tutti i granchetti For me è l'ora prima No Bene Alla prossima grotta Granchetti Ho imparato Ok Scusa dove si fa? Questa c'è un bagno Ok Questa sì che mi sembra un oasi Maria Sta bene Si è aggacciata Spero di averlo ripreso Bastardo Prego signorina Si è comodi nel mio bar Molto carino il suo bar Prego Degli snack Tanti pasti Oh grazie Vuole ancora? Grazie L'ho smangiucchiato io Per vedere se l'abbiamo Non è molto irritante Andiamo? Si Io volevo un po' di liquore di cactus Tappa numero 3 della giornata Cueva de los verdes Sono di nuovo tutta una serie di tunneli sotterranei Quanto sono costati? 10 euro Di nuovo? Si Abbastanza caro devo dire Tutto ciò Entriamo in una grotta Questo è un tour guidato Io non l'avevo capito Sei pronta a camminare per un'ora Al buio Si Dentro la grotta di Batman Si Mi chiamo Vanessa E' la mia guida per questa visita E' la mia spagnola in inglese E' la mia spagnola in spagnola E' la mia spagnola in spagnola in spagnola sta fastidissimo la mia c'è scendata la gatta quarta tappa cibo non abbiamo pranzato sono le 5 ho fame allora abbiamo un antepastino fatto di un pagnettino caldo un moggio rosso e un moggio verde come al solito e un pochettino con octopus ora che ci fa pieno e il pesciolino gigante va bene noi adesso torniamo in hotel andiamo a dormire che abbiamo tanto sonno anche se sono soltanto le otto e mezza in realtà e poi continuiamo i nostri giri domani quindi ci vediamo al prossimo video ciao